Un coltello da cucina con una lama da 21 centimetri spezzata è stato trovato nel parcheggio a 150 metri dalla villetta di Vigonovo dove abita la famiglia Cecchettin. È lì che Filippo avrebbe sferrato il primo fendente contro Giulia. La 22enne ferita avrebbe avuto la forza di tentare di fuggire dalla grande punto nera dell'ex fidanzato lasciando sull'asfalto un'impronta di una scarpa con tracce di sangue. Poi Filippo l'avrebbe trascinata nuovamente in macchina facendole perdere i sensi con pugni e calci e mettendole del nastro adesivo sulla bocca per impedirle di gridare. Quindi si sarebbe diretto verso la zona industriale di Fossò. Un percorso di cinque minuti durante i quali Giulia avrebbe ripreso conoscenza. È lì sotto l'occhio di una telecamera di sorveglianza di un'azienda che riprende tutto il nuovo tentativo disperato di fuga della 22enne terminato con lui che la blocca e la spinge con forza a terra facendole battere la testa contro il marciapiede. Nel filmato acquisito dagli investigatori si vede poi Filippo che mette la ragazza esanime nel bagagliaio dell'auto dove lei morirà poco dopo per uno shock emorragico. Così scrive il medico legale che ha effettuato un primo esame sul corpo subito dopo il ritrovamento nel bosco di Piancavallo. Sarà l'esame della macchina di Filippo la grande punto nera parte integrante della scena del crimine a dare agli investigatori la conferma della loro ricostruzione delle due diverse fasi del delitto. Un'azione omicidiaria c'è scritto nell'ordinanza di inaudita gravità e manifesta disumanità. Una frase che non lascia dubbi preludio alla contestazione dell'aggravante della crudeltà. Oltre a quella della premeditazione la procura sta valutando di aggiungerle entrambe all'accusa di omicidio volontario.